Saranno le associazioni di volontariato a garantire la vigilanza e l'attenza struttura di Piazza Gavur? Esattamente, però non parlerei proprio di vigilanza perché è una parola un po' pesantuccia. Per quanto mi riguarda io la definirei una sorta di assistenza alla tenda che ultimamente purtroppo ha subito degli atti vandalici e quant'altro. La nostra associazione sarà presente durante la settimana negli orari che vanno dalle 10.30 di sera fino alle 3.00 di notte proprio per dare assistenza a questa struttura e per segnalare eventualmente, osservare e segnalare fatti che si possono perpetrare, fatti spiacevoli che si possono perpetrare. Oggi è un bel giorno, riapre l'attenza struttura di Porta Aperte e a Piazza Gavur? Allora sì, oggi è il primo giorno di primavera e credo che è molto significativa anche la data. In un giorno di primavera, quando il mondo si apre a quelle che è la novità della vita, alla speranza e alla gioia, noi ritentiamo lo slancio. Dopo il sgradevole episodio di poco più di due mesi fa, riapre la tenza struttura di comunità missionare Porta Aperte di Cazzagavur? Rappresenta questa tenza struttura un punto di riferimento importante per i giovani e per tutta la città di Agrigento. Oggi, grazie alla presenza delle associazioni di volontariato della nostra città, con un rapporto di grande collaborazione con il Comune di Agrigento, che svolgeranno questo servizio di vigilanza importante, che contribuirà a mantenere aperto questo spazio, che vuole rappresentare un momento di speranza, soprattutto per i giovani agrigentini. Grazie a tutti.